Sicuramente è di grande importanza perché comunque interrompe una strescia negativa di due partite. Ci serviva assolutamente per il morale, per la fiducia e quindi di conseguenza lo reputiamo davvero un punto importante anche perché comunque è arrivato attraverso il carattere, è arrivato attraverso una squadra che non ha mai smesso di provarci, di crederci e di conseguenza questo è assolutamente di buon auspicio per quello che è il nostro processo di crescita che naturalmente si deve velocizzare e deve arrivare a essere un processo che ci porti a diventare squadra il prima possibile. Abbiamo altri ruoli da mettere a posto e dobbiamo assolutamente cercare di farlo perché come ho detto le squadre sono tutte attrezzate, sono tutte molto competitive e se vogliamo vedere un Bari competitivo come del resto vogliamo vedere tutti gli acquisti ci servono. Ma se dobbiamo dirla tutta serve sia il trequartista che l'attaccante perché potenzialmente l'alternativa del trequartista non c'è e l'alternativa degli attaccanti non c'è, quindi è molto semplice. Poi ripeto non li metto io i soldi, io faccio l'allenatore e chiedo quello che è giusto chiedere Grazie per la visione. Grazie a tutti